Oggi ci addentreremo nelle turbolenze che hanno scosso i vertici della Rai, portando alla clamorosa uscita di scena della celebre conduttrice Antonella Clerici. Prima di proseguire con il video, vorremmo chiedere il vostro supporto, basta cliccare sul pulsante di iscrizione e lasciare un mi piace al video. Grazie Infinite, Antonella Clerici è stata a lungo il volto inossidabile de' La prova del cuoco, il programma culinario che ha rapito l'attenzione di milioni di telespettatori per quasi due decenni. Nel 2018, la sua decisione di abbandonare lo show ha creato un vuoto che è stato poi colmato da Elisa Isoardi. Tuttavia, senza la presenza di Clerici, il programma ha subito un calo di ascolti e ha chiuso dopo soli due anni. Questo non è stato il primo addio di Clerici alla trasmissione, in passato aveva già lasciato per affrontare questioni personali. Tuttavia, la sua resilienza e il suo talento l'hanno sempre ricondotta in prima linea. La relazione altalenante tra Antonella Clerici e la Rai è stata segnata da litigi e bruschi cambiamenti. Dopo un periodo di dissidi, Clerici ha trovato rifugio in Mediaset per un breve periodo, conducendo un programma che ha influenzato non solo le carriere televisive, ma ha anche dimostrato quanto la determinazione possa permettere di superare ostacoli e controversie. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e vi ricordiamo ancora una volta di supportarci, basta cliccare sul pulsante di iscrizione e lasciare un mi piace al video. Grazie di cuore.